Nessuno di noi è orfano perché abbiamo una madre in cielo, Maria, che ci insegna la virtù dell'attesa anche quando tutto appare privo di senso. In una soleggiata piazza San Pietro, Papa Francesco ha dedicato la Catechesi dell'Udienza Generale alla madre del Figlio di Dio, madre di speranza che con il suo sì all'angelo inaugura una lunga lista di obbedienze che accompagnano il suo itinerario di madre. Maria spesso non comprende tutto quello che le accade intorno, ma medita ogni parola e ogni avvenimento nel suo cuore, rimanendo fedeli al piano di Dio, anche ai piedi della croce. Le madri non tradiscono, ha insistito il pontefice, tutti noi abbiamo conosciuto donne forti che hanno portato avanti tante sofferenze dei figli. Non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita, che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta. Non dimenticatevi che c'è sempre un grande rapporto fra la speranza e l'ascolto. E Maria è una donna che ascolta, che accoglie l'esistenza come essa si consegna a noi, con i suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie che mai vorremmo avere incrociato.